La prima motivazione che mi ha spinto a realizzare un progetto come Pizza Out è il fatto di avere un figlio autistico e di voler costruire un futuro per lui e con lui. Ma questa è stata solo la prima motivazione, perché poi cammino facendo, mi sono accorto che in Italia ci sono 600.000 persone autistiche, che quasi tutte sono escluse dal mondo del lavoro, dal mondo della socialità. E allora quella che era all'inizio un'esigenza individuale, quasi privata, è diventato un percorso collettivo, che ha voluto coinvolgere tante persone e ne vuole coinvolgere ancora di più. Oggi c'è un ristorante Pizza Out, dove sono incluse 19 persone, fra poco ne apriremo un secondo a Monza per dare lavoro ad altri 25 ragazzi. E l'idea è quella di fare un franchise, perché abbiamo richieste un po' da tutta Italia, e anche da buona parte d'Europa, per ripetere questa esperienza. E quindi l'idea è quella che si possa costruire una rete, un franchise, capace di dare lavoro a molte più persone autistiche. Pizza Out è un'attività complessa, difficile, faticosa, ma anche un'attività che ti regala emozioni e soddisfazioni incredibili e infinite. Ogni volta che un ragazzo acquisisce nuove competenze, nuove autonomie, vuol dire che il progetto sta funzionando, vuol dire che il lavoro diventa un'opportunità per avere un futuro diverso, ma anche un presente diverso. Grazie. Grazie.